Vai! E come mi dicevi tu, tu è il cuore e lo stesso ventre, e il mio angelo che cosa fa lassù, che assomiglia a te, a tue occhi tristi. Passo per il cappello voi. Allora, questo devo cantare. Dimmi che cosa saremmo noi. Ah no, c'era il video. Vai cerchi il video prima. Cerchi il video. Credimi, anche se tu lo vuoi, dimmi che dovremmo saremo noi, cosa vuoi? Che è indivisibile, solitamente. Ho fatto finito. Ho fatto finito. Ho fatto finito. Vai Renato! Vai Renato! L'indirizzo ce l'ho! Ricacciarti non è un problema. Ti telefonerò! Andiamo Renato! Renato! Mi dice così il tuo figlio sul ristorante. No, però! Renato! Allora, quattro e... Partiamo dall'inizio. Un miglior di anni, un miglior di anni, dai, più bello. Un miglior di anni. Con presentazione sempre. Esclosiva ufficiale. Ah no, per i ristoranti, l'incanto della pizza... Aspetta, aspetta, metti in pausa. Meno pausa. Meno pausa. Poi non. Poi non. Poi non. Poi non. Poi non. Cari amici di Alterra Fira Contigo, in esclusiva per il ristorante, l'incanto della pizza, abbiamo il grande Giancarlo. Bravo! Renato ce n'è uno. Ecco. Tutti gli altri ce n'è uno. E' Roma. Grazie a voi. Grande Renato! Oh, silenzio perché lo sentiamo così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A tutti. Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. E che bello pescare i sospesi su una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Vai, cantate. Tanto. Tanto. Non entra fuori dalla finestra. Si alza in volo soltanto la torre. C'è aria vita in testa. Un secondo. Un secondo. Sarà che noi due siamo ogni altro lontanissimo il pianeta. Ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tu. Per poi accorgersi. Noi non faremo come l'altra gente. Questi sono e resteranno per sempre. Tutti insieme! Bene. I migliori anni per la nostra vita. I migliori anni per la nostra vita. Scrittimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni per la nostra vita. Bravo! Scrittimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni per la nostra vita. Grandi! Buon qua! Questo ristorante è grandissimo! Grazie a tutti i ragazzi! Vai! Devo continuare? Certo! Come fuggi dopo i corsi. Come gli ultimi sopravvissuti. Sì! Forse un giorno scopriremo. Sì! Sì! Che non ci siamo mai! Sì! 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 Perché tutta quella tristezza. Il realtà non è mai esistita. Sì! Sì! Grandi! I migliori anni della nostra vita. Sì! I migliori anni della nostra vita. Sì! 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 vita la nostra vita la nostra vita che nessuna morte è infinita i migliori anni e alla nostra vita grazie un canto un canto un canto basta